L'artista cilentana Ivana Tozzi, pluripremiata a livello nazionale e internazionale, già componente del laboratorio teatrale di Gigi Proietti, il 29 ottobre 2021 riceverà il premio Sgarbi al centro fieristico e congressuale di Ferrara, un riconoscimento unico nel suo genere in cui si esprime il pensiero libero voluto e inaugurato dal grande critico Vittorio Sgarbi. L'opera fotografica dell'artista agropolese Ivana Tozzi sarà esposta in mostra dal 29 ottobre fino al 1 novembre 2021 al centro fieristico di Ferrara insieme ad altre opere d'arte provenienti da tutte le regioni d'Italia e dall'estero. L'artista riceverà un premio ulteriore, ovvero il premio Isabella d'Este per il suo valore artistico e al suo impegno profuso nell'arte che le sarà conferito dal comitato critico dell'evento insieme al comune della città di Ferrara. I nostri più grandi complimenti vanno all'artista Ivana Tozzi, ha commentato Barbara Romeo, critico e storica dell'arte, al suo indiscutibile talento e alla sua innata sensibilità d'animo in grado di cogliere la natura più intima delle cose e la verità celata dietro il muro dell'ipocrisia.